Questa rubrica di letture adesso conta anche il martedì alle ore 16 e leggeremo Alice, ma io penso si dica Alice Murrow, visto che lei è canadese, leggeremo il racconto In Fuga che dà il nome alla sua raccolta. Lo leggeremo martedì, un racconto di una trentina di pagine, quindi ci occuperà comodamente il martedì. Grazie a Cilina. Vedremo Red Viper, l'idea è quella di usare il martedì per le cose più lunghe, ad esempio il martedì scorso abbiamo fatto questo racconto di Hemingway, che si è occupato bene il suo spazio, anche questo racconto è abbastanza lungo, più o meno come quello lì di Hemingway. Se sarà il caso leggeremo anche cose più lunghe, in più puntate. Questa è un'idea che mi porto dietro. Scusate ancora per i problemi, mi dispiace iniziare così. Esatto, il colore dallo spazio e col senno di poi lo avrei fatto un martedì, perché si presta esattamente. Iniziamo da Carver. La situazione, ragazzi, è un pochino strana. Devo dire che non è facile concentrarsi adesso. Mi capita tutti i giorni che arriva il momento serale del bollettino, per cui verso le 18 qualcosa, apro l'Ansa, apro il post. Dopo diventa un po' difficile riconcentrarsi su altre cose, ma facciamolo, facciamolo con un po' di letteva tua, che ci fa tanto bene. Come mi insegnate, sistemiamo la nostra copertina. Esatto, Carver Hemingway Borges, esattamente. E siamo qua. Ho visto, Jordan. Good luck. Ah, buona fortuna a tutti. Mi idrato e ci sono. Buonasera, intanto. Benvenuti a chi sta arrivando soltanto adesso. Direi che possiamo iniziare con Da dove sto chiamando? Io e JP. Questo è il racconto, vi annuncio una cosa, questo è il racconto più lungo della serata. Non è particolarmente lungo, però le sue 20 pagine ce le ha. Sono pagine comunque scritte abbastanza in grande, nel caso di questa edizione A Now di Carver. Io e JP siamo sulla veranda davanti al centro di disintossicazione, gestito da Frank Martin. Come tutti noi. Qui da Frank Martin, JP è prima di tutto un ubriacone. Però è anche uno spazzacamino. È la prima volta che viene qui e ha paura. Io già ci sono stato una volta. Che dire, sono tornato. Il vero nome di JP è Joe Penny. Ma lui mi ha detto di chiamarlo JP. È sulla Trentina. Più giovane di me. Non di molto, ma un po' sì. Mi sta raccontando come mai ha deciso di mettersi a fare quel mestiere. E quando parla ha bisogno di muovere le mani. Ma le mani gli tremano. Insomma, non riesce a controllarle. Non mi è mai successa prima questa cosa, dice. Il tremito, intende. Gli dico che lo capisco benissimo. Loro assicuro che il tremito diminuirà, davvero. Solo che ci vuole tempo. Siamo qui solo da un paio di giorni. Non siamo ancora fuori dai guai. JP ha il tremito e io ogni tanto sento un nervo. Forse non è un nervo, ma qualcos'altro. Sulla spalla che mi dà una specie di spasmo. A volte mi succede su un lato del collo. Comunque, quando mi succede, mi si inaridisce la bocca. Faccio fatica perfino a deglutire. So che mi sta per succedere qualcosa e vorrei evitarlo. Vorrei nascondermi. Ecco cosa vorrei fare. Chiudere gli occhi e lasciare che passi. Che magari tocchi a qualcun altro. JP può anche aspettare un attimo. Ieri mattina ho assistito a un attacco epilettico. Un tizio che chiamano Tini. Taini, quindi, probabilmente. Un ciccione enorme, un elettricista di Santa Rosa. Dicevano che era qui da un paio di settimane e che ormai aveva superato la fase peggiore. Ancora uno o due giorni e sarebbe tornato a passare il Capodanno a casa con la moglie, davanti alla televisione. La sera di Capodanno Taini voleva passarla a bere cioccolata calda e a mangiare biscotti. Ieri mattina sembrava in gran forma quando è sceso a fare colazione. Faceva degli strani versi, starnazzando quasi, per spiegare a un tizio come chiamava le anatre quando andava a caccia in modo da farsene passare praticamente sopra la testa. Bang, bang! Ha fatto Taini, mimando il gesto di abbatterne un paio. Aveva i capelli bagnati e appiccicati a colpi di pettine ai due lati della testa. Era appena uscito dalla doccia. Si era anche affettato il mento con il rasoio. Ma che c'è di strano? Praticamente tutti, qui da Frank Martin, si affettano il mento radendosi. Succede, insomma. Taini si è sistemato a capotavola e ha cominciato a raccontare una cosa che gli era successa durante una delle sue sborgne colossali. Gli altri al suo tavolo ridevano e scuotevano la testa mentre mangiavano con appetito le uova. Taini diceva qualcosa, sorrideva e poi si guardava intorno al tavolo in cerca di segnali di comprensione. Tutti avevamo fatto cose altrettanto folli e stupide, quindi beh, si capisce perché ridevamo. Taini aveva le sue uova strapazzate ancora nel piatto, più miele e fette biscottate. Anch'io ero seduto a tavola, ma non avevo fame. Avevo davanti una tazza di caffè. Di colpo Taini è sparito. Era caduto all'indietro con tutta la sedia facendo un gran fracasso. Era steso per terra sulla schiena a occhi chiusi, con i talloni che martellavano ritmicamente sul linoleum. Gli altri hanno cominciato a chiamare Frank Martin a gran voce. Ma lui era già lì. Un paio di persone si sono inginocchiate accanto a Taini. Uno di loro gli ha infilato le dita in bocca per cercare di tenergli la lingua. Frank Martin ha cominciato a sbraitare. State indietro, tutti indietro. E allora mi sono reso conto che avevamo formato un cappannello. Stavamo tutti sopra Taini, tutti lì a guardarlo. Incapaci di staccargli gli occhi di dosso. Lasciatelo respirare, ha detto Frank Martin. Poi è corso in ufficio a chiamare l'ambulanza. Oggi Taini è di nuovo tra noi, quando si dice una guarigione veloce. Stamattina Frank Martin è andato a prenderlo giù all'ospedale con la station wagon. Taini è tornato tardi per mangiare le uova strapazzate, ma si è portato una tazza di caffè in sala da pranzo e si è seduto a tavola comunque. Qualcuno in cucina gli ha preparato del pane tostato, ma Taini non l'ha neanche toccato. È rimasto seduto a fissare la sua tazza di caffè, ce l'aveva davanti e ogni tanto la spostava di qua e di là. Mi piacerebbe chiedergli se ha sentito qualche segnale prima che succedesse. Vorrei sapere se ha sentito il cuore saltare un battito, oppure se ha cominciato a battergli all'impazzata. Magari ha avuto un tremito alla palpebra, ma mi sa che non gli dirò niente. A ogni modo non mi pare che sia tanto ansioso di parlarne, però quel che gli è successo è una cosa che non dimenticherò mai. Il vecchio Taini steso sul pavimento che scalcia come un matto. E' per questo che ogni volta che sento questo tremito da qualche parte trattengo il fiato e mi aspetto di ritrovarmi anch'io steso per terra a guardare il soffitto con qualcuno che mi infila le dita in bocca. Ciao a tutti, abbiamo iniziato da una pagina e mezzo il racconto da dove sto chiamando di Carver. Lui ha parlato di attacco epilettico, non di infarto. Quindi se vi siete persi all'inizio andate tranquilli che siete assolutamente in tempo per salire a bordo. Bevo un altro sorso d'acqua, vi dirò. Abbiamo questa situazione di un narratore in prima persona che parla di questo posto, il posto da Frank Martin, dove sembrano andare persone con dei problemi seri, tremiti, forse sono problemi veramente legati all'epilessia o forse alcolismo, non lo sappiamo, non è ancora del tutto chiaro. Seduto su una sedia sotto la veranda, JP tiene le mani in grembo. Io fumo e uso un vecchio secchio per il carbone come posa cenere. Sto a sentire JP che parla a ruota libera. Sono le undici di mattina. Manca un'ora e mezzo al pranzo. Né lui né io abbiamo fame, però non vediamo lo stesso l'ora di rientrare a sederci attorno al tavolo. Magari poi ci viene fame, no? Ma di che sta parlando JP? Sta raccontando di quella volta che a dodici anni era caduto nel pozzo vicino alla fattoria in cui era cresciuto. Era un pozzo asciutto, per sua fortuna. O sfortuna, dice lui, guardandosi attorno e scuotendo la testa. Racconta che quel pomeriggio, sul tardi, dopo che l'avevano localizzato, suo padre l'aveva dovuto tirare fuori con una fume. La sotto JP se l'era fatta addosso dalla paura. Aveva provato terrori di ogni genere in fondo a quel pozzo. Urlava per chiedere aiuto, aspettava e poi si rimetteva a urlare. La forza di urlare prima che la cosa si risolvesse aveva perso la voce. Ma mi ha detto che restare in fondo a quel pozzo lo aveva segnato per la vita. Era seduto laggiù e guardava in alto verso l'imboccatura del pozzo. Lassù in cima vedeva un cerchio di cielo azzurro. Ogni tanto passava una nuvola bianca. Era passato anche uno stormo di uccelli e JP era parso che il battito delle loro ali creasse un insolito trambusto. Aveva sentito anche altre cose, sentiva minuscoli fruscii sopra di sé e temeva che qualcosa potesse cadergli tra i capelli. Insetti, pensava. Sentiva il vento soffiare nella bocca del pozzo e anche quel suono gli aveva fatto una grande impressione. Insomma, tutta la sua vita era cambiata in fondo a quel pozzo. Comunque non gli era cascato in testa niente. Il piccolo cerchio azzurro lassù non era stato chiuso da niente. Poi era arrivato suo padre con la fune e non molto tempo dopo JP era riuscito a tornare nel mondo in cui aveva sempre vissuto. Continua a parlare JP. Cosa è successo dopo? Gli dico. Quando aveva 18-19 anni e si era appena diplomato al liceo non c'era niente di niente che volesse fare della sua vita. Un pomeriggio aveva attraversato la città per andare a trovare un amico. Questo tizio abitava in una casa con il caminetto. JP e il suo amico avevano passato il pomeriggio a bere birra e a chiacchierare del più e del meno. Avevano ascoltato dei dischi. A un certo punto suona il campanello. L'amico va ad aprire. Sulla porta c'è una ragazza spazzacamino con tutta l'attrezzatura. Quello che sappiamo di JP è che fa lo spazzacamino. Di mestiere. Indossa un cappello a cilindro e appena JP la vede resta senza fiato. La ragazza spiega all'amico di JP che ha un appuntamento per pulire la canna fumaria del caminetto. L'amico la fa entrare e le fa un inchino. La ragazza non se lo fila per niente. Stede una coperta per terra e tira fuori tutti i suoi attrezzi. È vestita tutta di nero. Pantaloni, camicia, scarpe, calzini, tutto nero. Naturalmente ora si è tolta il cilindro. JP riesce, dice, scusate, che solo a vederla gli pareva di andare fuori di testa. Lei si mette al lavoro e pulisce la canna fumaria. Mentre JP e il suo amico continuano a bere birra e ascoltare dischi. Però la tengono d'occhio. Osservano tutto quello che fa. Di tanto in tanto JP e il suo amico si scambiano un'occhiata e un sorriso. Oppure una strizzata d'occhi. Rimangono sorpresi quando la parte superiore della ragazza scompare su per la canna fumaria. Non era neanche niente male. dice JP. Appena ha finito, lei riarrotola le sue cose nella coperta. Prende dall'amico di JP un assegno che era stato preparato dai genitori del ragazzo. E poi gli chiede se vuole baciarla. Si dice che porti fortuna, gli fa. A quel punto JP è già cotto. L'amico fa roteare gli occhi e fa un po' il buffone. Ma poi, probabilmente arrossendo, le dà un bacetto sulla guancia. In quel momento JP ha deciso di passare all'azione. Ha posato la birra. Si è alzato dal divano. Si è avvicinato alla ragazza mentre lei si dirigeva verso la porta. E a me niente? Le ha detto JP. Lei lo ha squadrato per bene. JP dice che sentiva il cuore che gli batteva mille. e la ragazza si scopre si chiamava Roxy. Come no? Dice Roxy. Certo, mi è giusto avanzato qualche bacio. E gliene ha stampato uno come si deve sulle labbra. Quindi si è voltata per andarsene. Senza pensarci due volte, in un batter d'occhio, JP l'ha seguita sulla veranda. Le ha tenuto la porta aperta. Ha sceso con lei i gradini, l'ha accompagnata fino alla fine del vialetto dove lei aveva parcheggiato il furgone. Non è riuscito a farne a meno. Ha perso il controllo. Nient'altro al mondo ormai contava più per lui. Si era reso conto di aver incontrato una persona che gli faceva tremare le gambe. Sentiva il suo bacio brulicargli ancora sulle labbra, eccetera, eccetera. Insomma, JP ormai non capiva più niente. Era in balia di sensazioni che lo sbattevano da una parte all'altra. Le ha aperto il portellone posteriore del furgone, l'ha aiutata a sistemare gli attrezzi. Grazie, ha detto lei. A quel punto lui non ce l'ha fatta più a trattenersi e glielo ha detto tutto da un fiato. Gli farebbe piacere rivederla. Le andrebbe di andare al cinema con lui una sera? Ha capito anche di colpo che cosa vuole fare nella vita. La stessa cosa che fa lei, lo spazzacamino. Ma non è che gliel'ha detto subito in quell'istante. JP dice che lei si è messa le mani sui fianchi e lo ha squadrato di nuovo. Poi ha pescato un biglietto da visita dal sedile anteriore del furgone e glielo ha dato, dicendo Chiama questo numero dopo le dieci stasera. Così possiamo parlare. Adesso devo andare. Si è rimessa il cilindro in testa e poi se l'è tolto. Ha guardato di nuovo JP dalla testa ai piedi. Quello che ha visto deve esserle piaciuto perché stavolta gli ha lanciato un gran sorriso. Lui le ha detto che aveva una macchia di fuligine vicino alla bocca. Poi lei è salita sul furgone ha suonato il clacson e se n'è andata. E poi, dico io non ti fermerai mica sul più bello, eh JP? La storia mi interessava me lo sarei stato a sentire anche se avesse cominciato a raccontarmi come un bel giorno aveva deciso di mettersi a lanciare ferri di cavallo. Lanciare ferri di cavallo perché ha seguito Kentucky me lo dicevo che era un passatempo. Sì, siamo presumibilmente nei 60 è difficile dirlo in realtà per adesso. Ieri notte è piovuto. Le nuvole sono ammassate contro le colline dall'altra parte della valle. JP si schiarisce la gola e guarda le colline e le nuvole. Si stropiccia un po' il mento poi continua a raccontare. Insomma, Roxy comincia a uscire con lui. Pian piano lui riesce a convincerla a farsi accompagnare quando va a fare qualche lavoro. Ma Roxy lavora nella ditta del padre e del fratello e il lavoro basta appena per loro. non hanno bisogno di altri spazzacamini. E poi chi è questo JP? Come fa di cognome? Sta in guardia, le dicono. Comunque lei e JP sono andati al cinema insieme a qualche festa da ballo ma in gran parte il loro corteggiamento rotava intorno a loro andare a pulire camini insieme. Beh, e prima che se ne rendano conto continua JP cominciano a parlare di convolare e non passa molto tempo che lo fanno sul serio si sposano. Il suocero di JP lo prende in ditta come socio a tutti gli effetti. Dopo poco più di un anno Roxy ha un bambino intanto ha smesso come spazzacamino o perlomeno la smette con i lavori pesanti ben presto ha un altro bambino JP ormai va per i 25 anni e decide di comprarsi casa. dice che era felice all'epoca ero felice di come andavano le cose dice avevo tutto quello che volevo una moglie dei bambini che adoravo facevo quello che volevo fare nella vita ma per qualche motivo chi può mai sapere perché facciamo le cose che facciamo comincio a bere sempre di più eh, sospettavo c'entrasse l'alcol comincio a bere sempre di più per parecchio tempo comincia qua non era in discorso comincia a bere sempre di più per parecchio tempo beve birra e solo birra qualsiasi tipo di birra non gli importa quale dice che era capace di bere birra 24 ore al giorno beve birra la sera davanti alla televisione certo ogni tanto beveva anche qualcosa di più forte ma solo se andava fuori in città cosa che non capitava tanto spesso oppure quando gli veniva a trovare qualcuno poi a un certo punto nemmeno lui sa perché passa a bere gin tonic e comincia a bere altri gin tonic dopo cena seduto davanti alla televisione aveva sempre un bicchiere di gin tonic in mano dice che in realtà gli piaceva proprio il sapore ha preso l'abitudine di fermarsi a un bar dopo il lavoro per bere prima di tornare a casa e ricominciare a bere lì poi ha cominciato a saltare la cena a casa non si presentava tutto qua oppure arrivava ma non mangiava niente si era saziato di stuzzichini al bar certe volte entrava in casa e così senza una ragione prendeva la gavetta e la tirava dall'altra parte del soggiorno quando Roxy gli urlava dietro girava i tacchi e usciva un'altra volta allora ha cominciato a spostare l'ora della bevuta al primo pomeriggio quando in realtà doveva essere ancora al lavoro mi confessa anche che cominciava la mattina con un paio di bicchieri si riempiva di quella roba ancora prima di lavarsi i denti poi prendeva il caffè se ne andava al lavoro con un termos pieno di vodka nel porta pranzo JP smette di parlare si chiude a Riccio che succede? non è che non lo ascolto tanto per cominciare mi aiuta a rilassarmi mi distrae dai miei guai aspetto un minuto e poi gli dico e che diamine continua JP? lui è lì che continua a tormentarsi il mento comunque dopo un po' riprende a parlare a quel punto JP e Roxy cominciano a litigare sul serio scontri nel vero senso della parola JP dice che una volta lei gli ha dato un pugno in pieno volto e gli ha rotto il setto nasale guarda un po' qua mi fa in questo punto preciso mi indica una cicatrice sulla gobba del naso ecco com'è fatto un naso rotto lui le ha restituito il favore slogandole una spalla un'altra volta le ha spaccato un labbro se le davano anche davanti ai figli le cose hanno cominciato a sfuggirgli di mano ma lui continuava in perterito a bere non riusciva a smettere e niente riusciva a farlo smettere nemmeno il padre e il fratello di Roxy che minacciavano di rompergli le ossa avevano detto a Roxy di riprendere i bambini e di sloggiare da lì ma Roxy aveva risposto che il problema era suo lei ci si era cacciata e lei l'avrebbe risolto a questo punto JP ammutolisce un'altra volta incurva le spalle raggomitonandosi tutto sulla sedia osserva una macchina che passa lungo la strada tra questo posto e le colline gli dico guarda JP che ormai voglio sentire come va a finire questa storia faresti bene a continuare a parlare non so fa lui stringendosi nelle spalle non ti preoccupare gli dico e intendo che va bene qualsiasi cosa racconti coraggio JP beh una delle maniere in cui Roxy ha cercato di riaggiustare le cose dice JP è stata trovarsi un amante a JP piacerebbe tanto sapere come ha fatto a trovare il tempo con la casa e i bambini lo guardo sorpreso eppure non è mica più un ragazzino se vuoi fare una cosa del genere gli dico il tempo lo trovi e come te lo inventi il tempo JP scuote la testa mi sa che è proprio così dice insomma lui l'ha scoperto che Roxy si era fatta l'amante ed è andato fuori di testa riesce a sfilarle la fede dal dito la spezzetta tutta con un paio di tronchesi una vendetta davvero divertente a quel punto si erano già fatti un paio di riprese a pugni il giorno dopo mentre va al lavoro lo arrestano per guida in stato di ebrezza gli sequestrano la patente non può più guidare il furgone per andare a lavorare meglio così dice lui già una settimana prima era caduto da un tetto e si era frantumato un pollice era solo questione di tempo e si sarebbe rotto l'osso del collo dice ora era venuto qui da Frank Martin per disintossicarsi e vedere come poteva rimettere la sua vita sul binario giusto ma non era certo qui contro la sua volontà proprio come me non eravamo mica rinchiusi potevamo andarcene quando volevamo però raccomandavano una permanenza minima di una settimana mentre un periodo dalle 2 alle 4 settimane era come dicevano vivamente consigliato come ho già detto questa è la seconda volta che vengo da Frank Martin mentre ero lì che tentavo di firmare un assegno per pagare in anticipo la mia settimana Frank Martin mi ha detto le feste sono sempre un brutto periodo magari dovresti pensare di fermarti un po' di più stavolta che ne dici di un paio di settimane te le puoi permettere un paio di settimane pensaci comunque non è che devi decidere subito mi ha tenuto fermo l'assegno con il pollice mentre io lo firmavo poi ho accompagnato la mia ragazza alla porta per salutarla ciao ha detto lei sbattendo contro lo stipite e barcollando sullo spiazzo è pomeriggio avanzato piove mi sposto dalla porta alla finestra ho spostato la tendina per vederla partire in macchina la macchina è la mia lei è sbronza ma lo sono anch'io e non c'è niente da fare riesco ad arrivare alla grossa poltrona vicino al termosifone e mi ci siedo due tizi distolgono per un attimo lo sguardo dalla televisione poi si rimettono a guardare il programma io rimango seduto là ogni tanto alzo lo sguardo per vedere qualcosa che succede sullo schermo un po' più tardi ho sentito la porta sbattere nell'aprirsi e JP è stato portato dentro stretto tra due cristoni suo suocero e suo cognato ho scoperto in seguito lo hanno portato quasi di peso nell'atrio il vecchio ha firmato il registro per lui e ha dato un assegno a Frank Martin poi i due tizi hanno portato JP di sopra immagino l'abbiano messo direttamente a letto dopo un po' il vecchio e l'altro sono tornati di sotto e si sono diretti alla porta pareva che non vedessero l'ora di andarsene da questo posto e di lavarsene le mani di questa storia come dargli torto che diavolo non so proprio come mi comporterei io nei loro panni un giorno e mezzo dopo JP e io ci incontriamo lì sulla veranda ci stringiamo la mano e scambiamo qualche commento sul tempo JP ha un tremito abbastanza evidente ci sediamo e mettiamo i piedi sulla balaustra ci appoggiamo allo schienale della sedia come se fossimo lì a prendercela comoda come se ci preparassimo a discutere dei nostri cani da caccia ed è a questo punto che JP comincia a raccontare la sua storia fuori fa freddo ma non troppo il cielo è un po' coperto Frank Martin esce a finire il suo sigaro ha il golf tutto abbottonato fino al collo Frank Martin è tozzo e massiccio ha la testa piccola e piena di riccioli grigi una testa troppo piccola rispetto al resto del corpo si infila il sigaro in bocca e rimane in piedi a braccia concerte si rigira il sigaro in bocca e guarda dall'altra parte della valle se ne sta lì come un campione di pugilato uno che sa come va il mondo JP è riammutolito un'altra volta anzi a stento respira getto la mia cicca nel secchio del carbone e lo fisso finché lui si ritira ancora di più nella sedia JP si tira su il colletto della giacca che diavolo gli piglia mi chiedo Frank Martin disincrocia le braccia e tira una boccata dal sigaro lascia che il fumo gli esca dalla bocca poi accena con il mento verso la collina e dice Jack London aveva una grande casa dall'altra parte della valle proprio laggiù dietro quella collina verde davanti ai vostri occhi ma si è fatto ammazzare dall'alcol vi serva da lezione era un uomo migliore di tutti noi ma neanche lui era capace di tenere quella roba sotto controllo Frank Martin osserve il mozzicone del sigaro si è spento lo getta nel secchio se vi va di leggere qualcosa mentre siete qui leggete quel suo libro il richiamo della foresta lo conoscete no? ce l'abbiamo in biblioteca se vi interessa parla di un animale che è mezzo lupo e mezzo cane fine della predica dice e poi si tira sui calzoni e si sistema il golf io me ne torno dentro ci vediamo a pranzo mi fa sentire come un pidocchio quando mi sta vicino dice JP sul serio mi fa sentire come un pidocchio JP scuote la testa poi aggiunge Jack London quello si che è un nome vorrei averlo io un nome come quello invece di quello che mi ritrovo come state ragazzi tutto bene la prima volta vero ci alleggeriamo becchiamo sempre della roba proprio sto giro però non sembra che non siamo sulla malattia mentale ma sulla dipendenza patologica da alcolici non c'è mai eh no l'audio è al massimo ragazzi dovete alzarlo voi la prima volta quassù mi ci ha portato mia moglie era quando stavamo ancora insieme e cercavamo di far funzionare le cose mi ha portato quassù e si è fermata un paio d'ore a parlare in privato con Frank Martin poi se n'è andata la mattina dopo Frank Martin mi ha preso da parte e mi ha detto non possiamo aiutarti se vuoi essere aiutato e sei disposto a stare a sentire quello che abbiamo da dirti ma io mica lo sapevo se erano in grado è proprio una frase ah no no scusate scusate noi possiamo aiutarti se vuoi essere aiutato e sei disposto a stare a sentire quello che abbiamo da dirti ora ha senso ma io mica lo sapevo se erano in grado di aiutarmi o meno una parte di me voleva essere aiutata ma c'era pure un'altra parte di me questa volta è stata la mia ragazza ad accompagnarmi qua con la macchina un viaggio sotto un temporale abbiamo bevuto spumante per tutto il tragitto quando ho imboccato il vialetto eravamo tutti e due sbronzi lei voleva lasciarmi qui fare dietro fronte e tornarsene a casa aveva delle faccende da sbrigare una era andare a lavorare il giorno dopo faceva la segretaria aveva un lavoro niente male in una ditta di componenti elettronici aveva anche un figlio adolescente un po' sfacciato io volevo che si prendesse una stanza in città passasse la notte qui e tornasse a casa la mattina dopo non so mica se poi ha fatto così o no non l'ho più sentita da quando l'altro giorno mi ha accompagnato su per i gradini poi nell'ufficio di Frank Martin dove ha annunciato indovinate un po' chi è arrivato ma mica ce l'avevo con lei tanto per cominciare lei non immagina certo che cosa l'aspettava quando mi aveva detto che potevo restare con lei dopo che mia moglie mi aveva cacciato di casa e poi mi faceva pena il motivo per cui mi faceva pena era che alla vigilia di Natale le erano arrivate i risultati del suo pap test e non erano tanto allegri sarebbe dovuta tornare dal dottore prima possibile quel genere di notizia era già un buon motivo perché cominciassimo cominciassimo tutti e due a bere e così ci siamo presi una bella sbornia insieme e il giorno di Natale eravamo ancora sbronzi siamo dovuti andare a mangiare fuori perché lei non le andava di cucinare noi due l'adolescente l'adolescente sfacciato abbiamo aperto un po' di regali e poi siamo andati in una stick house dalle parti di casa sua io non avevo neanche fame ho ordinato una zuppa e un panino caldo con la zuppa ho fatto fuori una bottiglia di vino anche lei ha bevuto un po' di vino poi abbiamo cominciato a darci dentro con i Bloody Mary per i due giorni successivi non ho mangiato altro che noccioline in compenso ho bevuto un sacco di bourbon 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 non so come si pronuncia è chiaramente un liquore alla fine le ho detto bourbon thank you very much bourbon 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 una cosa un po' così alla fine le ho detto tesoro mi sa che è meglio che faccio i bagagli torno da Frank Martin è meglio lei ha tentato di spiegare a suo figlio che si sarebbe assentata per un po' e che si sarebbe dovuto far da mangiare da solo ma proprio mentre stavamo per uscire quel ragazzino sfacciato si è messo a sbraitare contro di noi urlava andate al diavolo spero che non torniate mai più spero che vi ammazziate che roba quel ragazzino prima di uscire dalla città l'ho fatta fermare in una bottiglieria dove ho comprato lo spumante ci siamo fermati in un altro posto per comprare i bicchieri di plastica poi abbiamo preso pure un secchiello di pollo fritto siamo partiti per la clinica di Frank Martin sotto un bel acquazzone bevendo e ascoltando musica lei guidava io badavo alla radio e versavo lo spumante cercavo cercavamo di trasformare l'occasione in una specie di festa però eravamo anche tristi c'era quel pollo fritto ma non l'abbiamo nemmeno toccato immagino che sia riuscita a tornare a casa sana e salva mi sa che altrimenti a quest'ora avrei saputo qualcosa comunque lei non m'ha chiamato io non ho chiamato lei magari a quest'ora ha avuto le notizie che aspettava dall'ospedale oppure chissà forse ancora no magari si è trattato di uno sbaglio uno scambio di test a ogni modo lei ha la mia macchina io ho ancora le mie cose a casa sua so che ci rivedremo qui suonano una vecchia campana per chiamarci a mensa JP e io ci alziamo dalle sedi e rientriamo tanto cominciava pure a fare fresco lì sotto la veranda vediamo il fiato uscire a sbuffi dalla bocca quando parliamo la mattina di San Silvestro cerco di chiamare mia moglie nessuna risposta va bene ma anche se non andasse bene che ci posso fare l'ultima volta che abbiamo parlato per telefono un paio di settimane fa abbiamo finito per urlare io l'ho insultata parecchio ti sei bevuto il cervello ha detto lei riattaccandomi in faccia ma ora avevo voglia di parlare bisognava fare qualcosa per la mia roba avevo parecchie cose anche a casa sua qui c'è un tizio che viaggia spesso va sempre in Europa e in altri posti almeno così dice per affari dice dice anche che è riuscito a mettere sotto controllo il vizio e non ha idea di come mai si trovi qui da Frank Martin ma non si ricorda nemmeno come ci è arrivato qui gli viene voglia di ridere su questo fatto può capitare a tutti un vuoto di memoria dice non significa niente lui non è mica un ubriacone ci dice questa cosa e noi lo stiamo a sentire è una cosa grave da muovere a qualcuno dice una voce del genere può rovinare la carriera di una brava persona dice pure che se si limitasse a bere whisky anacquato senza ghiaccio non avrebbe neanche questi vuoti di memoria la colpa è tutta del ghiaccio che mettono nel whisky conosce nessuno in Egitto mi chiede avrei bisogno di qualche appoggio laggiù per la cena di Capodanno Frank Martin ha preparato bistecche e patate al forno mi sta tornando l'appetito ripulisco per bene il mio piatto e potrei anche continuare do un'occhiata nel piatto di Tiny diamine non ha praticamente toccato niente la bistecca è ancora lì intatta Tiny non è più il vecchio Tiny povero disgraziato pensava di passare la serata a casa sua già si vedeva in vestaglie pantofole davanti alla televisione mano nella mano con la moglie adesso invece ha paura di andarsene da qui come lo capisco un attacco di quelli significa che sei pronto per averne un altro Tiny non ha più raccontato le sue storielle pazzesche dopo quello che gli è successo se ne è rimasto zitto per conto suo per chi si fosse collegato dopo è un personaggio obeso che ha avuto un attacco di epilettico all'inizio del racconto gli chiedo se posso prendermi la sua bistecca e lui spinge il piatto verso di me alcuni di noi non sono ancora letto ma se ne stanno seduti davanti alla televisione a guardare la festa a Times Square quando Frank Martin esce per farci vedere la torta lei fa fare il giro la mostra a ciascuno di noi lo so che non l'ha fatta lui è una torta comprata ma è pur sempre una torta è grande è tutta bianca in cima c'è una scritta in lettere rosa dice buon anno un giorno alla volta chi se ne fotte della torta dice il tizio che va spesso in Europa fuori lo spumante piuttosto esclama e poi scoppia a ridere torniamo tutti nella sala mensa Frank Martin taglia la torta mi siedo accanto a JP ne mangia due fette e si beve una coca io mangio una fetta e me ne avvolgo un'altra in un tovagliolo pensando a dopo JP si accende una sigaretta le mani non gli tremano più e mi dice che la moglie verrà a trovarlo domani mattina il primo dell'anno fantastico gli dico annuendo lecco la glassa che mi si è appiccicata le dita questa sì che è una buona notizia JP te la voglio presentare dice lui non vedo l'ora rispondo ci scambiamo la buona notte e gli auguri di buon anno mi pulisco le dita con un tovagliolo ci stringiamo la mano vado al telefono inserisco una monetina e chiamo mia moglie a carico del destinatario ma neanche stavolta risponde nessuno mi passa per la mente di chiamare la mia ragazza e sto già componendo il suo numero ma non mi rendo conto che non ho proprio voglia di parlarle con ogni probabilità è a casa davanti alla televisione a guardare la stessa cosa che stavo guardando io a ogni modo non ho voglia di parlarle spero che stia bene ma se ha qualche problema non voglio saperlo dopo colazione io e JP prendiamo il caffè fuori sotto la veranda il cielo è sereno ma fa abbastanza freddo e ci imbacucchiamo in maglioni e giacche pesante mi ha chiesto se doveva portare i bambini dice JP gli ho detto di tenerli a casa te li immagini Dio buono non voglio che i miei figli vengano quassù usiamo sempre del vecchio carbone come posa cenere il secchio scusate usiamo sempre il secchio del carbone come posa cenere guardiamo l'altro versante della valle dove viveva Jack London stiamo bevendo un altro caffè quando una macchina imbocca il vialetto della strada e lei dice JP posa la tazza accanto alla sedia si alza e scende dalla veranda vedo una donna che parcheggia la macchina e tira il freno a mano vedo JP che le apre la portiera la vedo scendere e li osservo mentre si abbracciano distolgo lo sguardo poi torno a guardarli JP la prende sotto braccio e vengono su per le scale questa è la donna che una volta gli ha rotto il naso ha avuto due figli e un sacco di guai ma ama quest'uomo che ora la tiene sotto braccio mi alzo dalla sedia questo è il mio amico dice JP alla moglie ehi questa è Roxy Roxy mi stringe la mano è una bella donna alta e porta un berretto di lana indossa un cappotto un maglione pesante e pantaloni mi ricordo le storie che ha raccontato JP sull'amante e sui tronchesi non vedo la fede al dito infatti immagino sia da qualche parte in tanti pezzetti ha le mani grandi e le dita nudose è una donna che sa fare appugni se necessario ho sentito tanto parlare di lei le dico JP mi ha raccontato di come vi siete conosciuti tutta colpa di un cammino di un cammino a quanto dice JP già un cammino dice lei probabilmente ci sono un sacco di altre cose che non le ha raccontato aggiunge scommetto che non le ha raccontato l'intera storia dice ridendo poi non ce la fa più a trattenersi infila un braccio intorno alla vita di JP e gli schiocca un bacio sulla guancia cominciano a spostarsi verso la porta piacere di averla conosciuta mi fa ehi gliel'ho detto che lui è il miglior spazzacamino sulla piazza e dai Roxy non ricominciare dice JP ha già la mano sulla maniglia della porta ma detto che tutto quello che sa l'ha imparato da lei rispondo beh questo è poco ma sicuro dice lei ride di nuovo ma è come se stesse già pensando a qualcos'altro JP gira la maniglia Roxy mette la mano sopra la sua Joe non è che si potrebbe andare in città per pranzo non potrei portarti da qualche parte e JP si schiarisce la gola dice non è ancora passata una settimana togli la mano dalla maniglia della porta e si tocca il mento con le dita mi sa che preferiscono che non mi allontani da qui per un altro po' possiamo prendere un caffè qui però va bene dice lei il suo sguardo si posa di nuovo su di me sono contenta che Joe abbia trovato un amico qui molto piacere dice cominciano a entrare lo so che è una stupidaggine ma lo faccio lo stesso Roxy la chiamo si fermano sulla soglia e mi guardano ho bisogno di un po' di fortuna dico sul serio anche a me farebbe comodo un bacio JP abbassa lo sguardo a terra ha rimesso la mano sulla maniglia anche se la porta è ormai aperta continua a girarla e rigirarla ma io tengo lo sguardo fisso su di lei Roxy sorride non faccio più la spazzacamino dice sono anni ormai John gliel'ha detto però certo un bacio glielo do lo stesso certo mi si avvicina mi prende per le spalle io sono un omone e mi schiocca un bacio sulle labbra che gliene pare mi fa mi pare bellissimo dico io che ci vuole disse lei mi tiene ancora per le spalle mi fissa dritto negli occhi buona fortuna mi fa e poi mi lascia andare ci vediamo più tardi amico dice JP apre del tutto la porta ed entrano mi siedo sui gradini della veranda e mi accendo una sigaretta osservo i gesti della mia mano e poi spengo il fiammifero soffiandoci su è venuto il tremito anche a me da stamattina stamattina mi è venuta voglia di bere qualcosa è una cosa deprimente ma a JP non ho detto niente cerco di tenere la mente occupata con qualcos'altro ripenso agli spazzacamini a tutte le cose che ha detto JP e a un tratto chissà perché mi torna in mente una casa in cui una volta abitavo con mia moglie in quella casa il cammino non c'era però perciò non so bene che cosa me l'ha fatta venire in mente proprio adesso ma ricordo che quella casa e che c'eravamo trasferiti lì solo da poche settimane quando una mattina ho sentito un rumore strano proveniente dall'esterno era una domenica mattina e la camera da letto era ancora buia ma dalla finestra trapelava una luce pallida mi sono messo in ascolto sentivo qualcosa grattare contro il fianco della casa sono saltato giù dal letto e sono andato a dare un'occhiata oh dio mio esclama mia moglie tirandosi di colpo a sedere sul letto e scostandosi i capelli dalla faccia poi scoppia a ridere è il signor venturini dice mi sono scordata di dirtelo aveva detto che oggi sarebbe venuto per ridipingere la casa di mattina presto prima che faccia troppo caldo mi ero completamente scordata dice ride tornatene pure a letto tesoro è solo lui aspetta un attimo dico io scosto la tenda dalla finestra fuori c'è un vecchietto in tuta bianca in piedi vicino a una scala a pioli il sole appena ha iniziato a spuntare da dietro le montagne il vecchio io ci squadriamo a vicenda è proprio il padrone di casa il vecchietto in tuta da lavoro però la tuta gli sta troppo grande e non si è neanche fatto la barba si è messo in testa un berretto da baseball per proteggersi la pelata accidenti mi viene da pensare è proprio un vecchietto strano sono inondato da una sensazione di felicità per il solo fatto di non essere lui per essere quello che sono e di starmene in questa camera da letto con mia moglie lui fa un gesto con il pollice per indicarmi il sole mi malatto di asciugarsi il sudore dalla fronte sta cercando di farmi capire che non ha tanto tempo si apre in un gran sorriso ed è allora che mi rendo conto di essere nudo mi guardo addosso poi guardo di nuovo lui e mi stringo nelle spalle che cosa si aspettava mia moglie ride e dai dice tornatene a letto sbrigati torna immediatamente qui torna qui a letto mollo la tenda ma rimango in piedi davanti alla finestra vedo il vecchietto che annuisce con il capo tra sei e sei come se stesse dicendo va pure figliolo torna te a letto ti capisco si tira la visiera sul berretto quindi si rimette al lavoro raccoglie il barattolo della vernice e comincia ad arrampicarsi sulla scala mi appoggio al gradino dietro di me e accavallo le gambe magari un po' tardi nel pomeriggio provo a richiamare mia moglie e poi cercherò anche di sapere cosa succede alla mia ragazza ma non voglio parlare con quello sfacciato di suo figlio se chiamo spero che se ne stia da qualche altra parte a fare qualsiasi cosa faccia quando non gira per casa cerco di ricordarmi se ho mai letto un libro di Jack London non me lo ricordo però al liceo in effetti ho letto un suo racconto accendere un fuoco si intitolava c'è un tizio nel bel mezzo dello Yukon che sta gelando provate a immaginarlo finirà davvero col morire assiderato se non riesce ad accendere un fuoco con il fuoco può asciugarsi i calzini il resto e scaldarsi riesce ad accendere il fuoco ma poi succede qualche cosa ci cade sopra la neve di un ramo il fuoco si spegne intanto il freddo aumenta sta scendendo la notte tiro fuori delle monete dalla tasca proverò prima con mia moglie se risponde le farò gli auguri per l'anno nuovo ma tutto lì non seleverò discussioni sui nostri affari non alzerò la voce neanche se cerca di provocarmi mi chiederà da dove sto chiamando e dovrò dirglielo non le dirò nulla dei propositi per l'anno nuovo non c'è modo di fare una battuta su una cosa del genere dopo che avrò parlato con lei chiamerò la mia ragazza o magari chiamo prima lei dovrò solo sperare che non prenda la linea suo figlio ciao tesoro le dirò appena risponde sono io fine anche secondo me meglio gli altri però ha delle buonissime immagini questo racconto uno spaccato di vita vissuta male sì però gli manca un po' un ci sono immagini qua e là il titolo è da dove sto chiamando è molto ben scritto secondo me però anch'io ho preferito gli altri sinceramente comunque vi leggo vi leggo vi rileggo la fine visto che me lo chiedevate beh vabbè poi in realtà molto banale tiro fuori delle monete dalla tasca proverò prima con mia moglie e se risponde le farò gli auguri per l'anno nuovo ma tutto lì non sollevrò discussioni sui nostri affari non alzerò la voce neanche se cerca di provocarmi mi chiederà da dove sto chiamando e dovrò dirgliela non le dirò nulla dei propositi per l'anno nuovo non c'è modo di fare una battuta su una cosa del genere dopo che avrò parlato con lei chiamerò la mia ragazza o magari la chiamo prima chiamo prima lei dovrò solo sperare che non prenda la linea suo figlio ciao tesoro le dirò appena risponde sono io è davvero uno spaccato ma è proprio spaccato ai lati lo stile di Carver è molto molto riconoscibile ci sono persone che hanno la caratteristica di essere chiuse chiuse rispetto al mondo non sono necessariamente persone insensibili ma sono persone che hanno perso l'abitudine alla sensibilità e riescono a vivere degli squarci di come si può dire di questa sensibilità rispetto ai quali però non hanno più una grande capacità di comprensione e quindi risultano quasi delle epifanie questo è un po' il suo stile il bacio è un momento interessante perché sia di gentilezza che di ambiguità e l'abbiamo già visto l'ambiguità in cattedrale il romanzo preferito di Echo sicuramente il pendolo però recuperai il mio video su YouTube Umberto Echo da dove iniziare che è molto molto utile ora se naturalmente non avete altre osservazioni io vi sto vi sto leggendo certo Frankie però stile totalmente diverso sì manca un pochino il climax manca quella sensazione di evoluzione cioè lui è lì stabile statico non vive un'evoluzione ha qualche ci sono degli squarci che si aprono in qualche modo forse il bacio della spazzacamino della moglie di JP fa parte della sua decisione di chiamare la moglie ma in un modo molto quasi brutale insomma molto bassa come come emozione sì 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 Calypso assolutamente grazie Luca grazie del supporto anche la telefonata è rimandata assolutamente il titolo in realtà è complementare alla narrazione nel senso che dice qualche cosina in più da dove sto chiamando che è quell'imbarazzo che lui dovrà affrontare nel momento in cui chiamerà chiunque sia lui vorrebbe chiamare la moglie ma alla fine dice ma ascolta piuttosto chiamo l'amante la ragazza come dice lui perché con lei non si deve vergognare di dire da dove sta chiamando sì è uno spaccato assolutamente realistico comunque sia dicevamo colline come elefanti bianchi ora il più è trovarlo ma sono sicuro che c'è insomma giuro che l'ho visto eccolo 281 questo è breve copertina grazie a tutti grazie ragazzi grandi tricks eccolo mamma mia sono stanchino carver lo facciamo riposare per un po' ho la sensazione che siamo partiti con quello che comunque è considerato uno dei suoi racconti migliori che è cattedrale lui mi piace da morire mi piace da morire però siccome voglio dare varietà abbiamo tantissima roba lì adesso lo vediamo adesso lo vediamo e comunque invece questo è il primo Hemingway serale racconto molto breve questa volta Wallace certo che torna mi sa che potrebbe anche tornare la prossima la prossima volta colline come elefante non sto a dirvi Asimov vediamo vediamo magari è più da da pomeriggio anche perché racconti Asimov sono abbastanza lunghi salvo eccezioni sì sì lo leggeremo e questa è l'acqua non ho un programma cioè io non so cosa porterò a parte martedì che c'è la Alice Monroe come mi avete insegnato giustamente e mi fa piacere mi fa piacere Norway Path è lo stesso anche per me perché in realtà ero di un umore nero veramente prima di iniziare questa live quindi dai proviamo un pochino a distrarci anche perché come dicevo dopo cena o poco prima di cena in realtà arrivano arrivano i bollettini e c'è sempre poco da stare allegri The Hemingway sapete tutti uomo avventuroso la sua vita è una leggenda reporter di guerra mezzo combattente le corride e la caccia e la pesca è un uomo d'avventura amatore di tutto di tutto insomma un mito Hemingway nella vita reale i mojito tutto 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 l'Hemingway che vi potete che vi potete immaginare quindi ad esempio quando parlava della caccia c'era molto di autobiografico parlava di cose che conosceva bene di Hemingway no ho letto soltanto Addio alle armi e per chi suona la campana oltre al fatto che questi racconti io in realtà li ho già in realtà questo credo di no altri sì perché li ho segnati li avevo già letti centomila anni fa per esempio La vita breve e felice di Francis McComber l'avevo già letto comunque sia siamo qui per si giocava non lo so ma forse era un'epoca in cui ci si drogava assaie comunque colline come elefanti bianchi penso alla coca ad esempio non che ora sia diverso in realtà si è un'osservazione abbastanza aspetta voglio fare una modifica scusate voglio fare una piccola cosa che mi dà una noia bestiale ok queste sono le cose importanti ci siamo ragazzoni sono le 22 e 22 siamo assolutamente precisi ma grazie a te Tas guardate che sono importanti ma anche per chi trasmette ve lo assicuro cercherò assolutamente adesso non ve lo voglio pre-anticipare per poi non mantenerlo però oggi è giovedì domani alle 14 facciamo una live di talk a vostra disposizione chiacchieriamo di quello che vi pare ci facciamo anche due risate come sempre ma vedrete che anche sabato e domenica qualche live la faccio saltare fuori perché insomma un pochino ci vuole comunque sia ragazzuoli grazie in generale grazie di essere qua colline come elefanti bianchi siamo con Hemingway vediamo se siamo ancora in Africa il titolo potrebbe farlo pensare la valle dell'Ebro la valle dell'Ebro la valle dell'Ebro no che non siamo in Africa siamo in Spagna allora nord della Spagna quanto sono ignorante ragazzi voi lo sapevate io no mamma mia ho perso anche il segno eccoci qua nord della Spagna il libro sfocia poco sotto Barcellona allora le colline che attraversano la valle dell'Ebro che attra sì le colline che attraversano scusate le colline che attraversano la valle dell'Ebro erano lunghe e bianche un'altra dell'esperienza adesso non so se questo racconto andrà a parare ma chi ha letto ad esempio i suoi reportage di guerra chi ha letto addio alle armi sa che parla di Caporetto prima guerra mondiale chi ha letto per chi suona la campana sa che è ambientato in Spagna e parla della guerra in Spagna fra le due grandi guerre le colline che attraversano la valle dell'Ebro erano lunghe e bianche e Hemingway è stato lì di qua non c'era ombra né alberi e la stazione era tra due file di binari sotto il sole quindi è stato a combattere i fascisti raccontiamola tutta contro il fianco della stazione c'era l'ombra calda dell'edificio e una tenda fatta di filze di tubetti di bambù appesa davanti alla porta aperta al bar aperta del bar per tenere fuori le mosche l'americano e la ragazza che erano con lui sedevano a un tavolo all'ombra fuori dall'edificio faceva molto caldo e il direttissimo da Barcellona doveva arrivare di lì a 40 minuti si fermava due minuti in quella stazione e proseguiva per Madrid il titolo è Colline come elefanti bianchi lo rileggo questo primo capoverso perché l'ho letto come un cane le colline che attraversano la valle dell'Ebro erano lunghe e bianche di qua non c'era ombra né alberi e la stazione era tra due file di binari sotto il sole contro il fianco della stazione c'era l'ombra calda dell'edificio e una tenda fatta di filze e di tubetti di bambù appesa davanti alla porta aperta del bar per tenere fuori le mosche l'americano e la ragazza che era con lui sedevano un tavolo all'ombra fuori dall'edificio faceva molto caldo il direttissimo da Barcellona doveva arrivare da lì a 40 minuti si fermava due minuti in quella stazione e proseguiva per Madrid cosa prendiamo? chiese la ragazza si era tolta il cappello e lo aveva messo sul tavolo fa piuttosto caldo disse l'uomo beviamo una birra dos cervezas disse l'uomo verso la tenda grandi? chiese una donna dalla soglia si due grandi la donna portò due bicchieri di birra e due sottocoppe di feltro mise sul tavolo le sottocoppe di feltro e i bicchieri di birra e guardò l'uomo e la ragazza la ragazza stava guardando verso la fila lontana di colline sotto il sole erano bianche e i campi erano bruni e riarsi sembrano elefanti bianchi disse non ne ho mai visto uno disse l'uomo bevendo la sua birra no non potresti averlo fatto potrei sì disse l'uomo il semplice fatto che tu lo dica non prova nulla la ragazza guardò la tenda di bambù ci hanno dipinto qualcosa sopra disse cosa dice anis del toro è una bibita perché non la assaggiamo l'uomo gridò senta attraverso la tenda la donna uscì dal bar quattro reales probabilmente qua non ci sono i nomi dei turni di parola quattro reales probabilmente dice la donna del locale vogliamo due anis del toro con acqua lo vuoi con acqua non so disse la ragazza è buono con l'acqua buonissimo le volete con l'acqua chiese la donna sì con l'acqua sa di liquirizia disse la ragazza e depose il bicchiere è così per tutto sì disse la ragazza tutto sa di liquirizia tutte le cose in particolare che si sono aspettate tanto come l'assenzio oh smettila hai cominciato tu disse la ragazza io mi divertivo me la spassavo beh cerchiamo di spassarcela ci stavo provando dicevo che i monti sembrano elefanti bianchi non è stata un'osservazione intelligente è stata un'osservazione intelligente volevo assaggiare questa nuova bibita è tutto quello che facciamo no guardare cose e assaggiare nuove bibite credo di sì la ragazza guardò le colline sono belle disse veramente non sembrano elefanti bianchi alludevo solo al colore della pelle tra gli alberi un altro bicchiere d'accordo il vento caldo spinse contro il tavolo la tenda di bambù la birra è bella fresca disse l'uomo deliziosa disse la ragazza è davvero un'operazione semplicissima jig disse l'uomo veramente non la veramente non la si può neanche chiamare un'operazione la ragazza guardò il terreno sul quale poggiavano le gambe del tavolo so che non ci faresti neanche caso jig è una cosa da nulla veramente serve solo a far passare l'aria la ragazza non disse niente verrò con te starò sempre con te fanno solo entrare l'aria e poi è tutto perfettamente naturale e cosa faremo dopo staremo benissimo dopo come stavamo prima cosa te lo fa credere è l'unica cosa che ci preoccupa è l'unica cosa che ci ha reso infelici la ragazza guardò la tenda di bambù tese la mano e si impadronì di due filze di tubetti e tu pensi che dopo staremo bene e felici lo so non devi avere paura conosco un sacco di gente che l'ha fatto anch'io disse la ragazza e dopo erano tutte così felici beh disse l'uomo se non vuoi nessuno ti obbliga non vorrei che lo facessi se non vuoi ma so che è semplicissimo e tu lo vuoi davvero? credo che sia la cosa migliore ma non voglio che tu lo faccia se davvero non vuoi e se lo faccio tu sarai felice e le cose torneranno come prima e tu mi vorrai bene ti voglio bene anche adesso lo sai che ti voglio bene lo so ma se lo faccio poi sarà di nuovo bello se dico che le cose sono come elefanti bianchi e ti farà piacere mi farà molto piacere anche adesso mi fa piacere ma non riesco a pensarci tutto qui sai come divento quando sono preoccupato se lo faccio non sarai più preoccupato non sarò preoccupato per questo perché è una cosa semplicissima allora lo farò perché di me non mi importa nulla come sarebbe di me non mi importa nulla beh importa a me oh sì ma a me no e lo farò e poi tutto andrà bene non voglio che tu lo faccia se la pensi così la ragazza si alzò in piedi e camminò fino in fondo alla stazione dall'altra parte di là dai binari c'erano dei campi di grano e degli alberi sulle rive dell'Ebro lontano oltre il fiume c'erano delle montagne l'ombra di una nuvola passava sul campo di grano e tra gli alberi si vedeva il fiume e potremmo avere tutto questo disse la ragazza e potremmo avere tutto e ogni giorno lo rendiamo più impossibile quindi il tono dovrebbe essere e pensare che e potremmo avere tutto questo disse la ragazza e potremmo avere tutto e ogni giorno lo rendiamo più impossibile che hai detto ho detto che potremmo avere tutto possiamo avere tutto no che non possiamo possiamo avere il mondo intero no che non possiamo possiamo andare dappertutto no che non possiamo non è più nostro è nostro no non lo è e quando te l'hanno portato via non riesci a rieverlo mai più ma non ce l'hanno portato via aspettiamo e vedremo vieni all'ombra disse lui non devi sentirti così non mi sento in nessun modo disse la ragazza so come stanno le cose è tutto qui non voglio che tu faccia nulla che tu non voglia fare e che non mi faccia e che non mi faccia bene disse lei lo so ah no continua la frase non voglio che tu faccia niente che tu non voglia fare e che non mi faccia bene lo so lo so potremmo ordinare un'altra birra certo ma tu devi capire capisco non potremmo stare zitti per un po' si sedettero al tavolo e la ragazza guardò verso la collina dalla parte riarsa della valle e l'uomo guardava lei e il tavolo devi capire disse che non voglio che tu lo faccia se non vuoi sono prontissimo ad andare fino in fondo se per te significa qualcosa e per te significa qualcosa ce la potremmo cavare certo che significa qualcosa ma io voglio solo te non voglio nessun altro e so che è una cosa semplicissima sì tu sai che è semplicissima hai ragione di parlare così ma lo so adesso faresti qualcosa per me per te farei qualunque cosa vorresti per piacere 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 smettere di parlare lui non disse nulla ma guardò le valigie contro il muro della stazione c'erano attaccate le etichette di tutti gli alberghi dove avevano passato la notte ma io non voglio che tu lo faccia disse non me ne importa niente adesso grido disse la ragazza la donna uscì dal bar con due bicchieri di birra e li depose sui sottoscopa di feltro umido il treno arriva fra cinque minuti disse cosa ha detto chiese la ragazza e qui sarebbe la doppia lingua potremmo mettere in spagna che il treno arriva fra cinque minuti la ragazza rivolse alla donna un sorriso raggiante per ringraziarla sarà meglio che io porti le valigie dall'altra parte della stazione disse l'uomo la ragazza sorrise anche a lui d'accordo poi torna qui finiamo la birra lui raccolse le due pesanti borse e girando intorno la stazione le portò sugli altri binari guardò in fondo ai binari ma non riuscì a scorgere il treno tornando indietro passò attraverso il bar dove stavano bevendo i passeggeri in attesa del treno beve un anis al bar e guardò i passeggeri aspettavano tranquillamente il treno l'uomo uscì attraverso la tenda di bambù la ragazza era seduta al tavolo e gli sorrise ti senti meglio? ti senti meglio? domandò lui mi sento bene disse lei non ho niente mi sento bene e una pagina bianca mi ha mi ha accolto dobbiamo rileggere una parte ma la volevo rileggere già prima a un certo punto dice la birra è bella e fresca è deliziosa ed è qui che salta fuori e lui dice è davvero un'operazione semplicissima Jig disse l'uomo veramente non la si può neanche chiamare un'operazione la ragazza guardò il treno sul quale so che non ci faresti neanche caso Jig è una cosa da nulla veramente serve solo a far passare l'aria verrò con te e starò sempre con te fanno solo entrare l'aria e poi è tutto perfettamente naturale e questa è l'unica descrizione che abbiamo di quello che la ragazza sta andando a fare ma la parte più bella secondo me è questa la ragazza si alzò in piedi e camminò fino in fondo alla stazione dall'altra parte al di là dei binari c'erano dei campi di grano degli alberi sulle rive dell'Ebro lontano oltre il fiume c'erano delle montagne l'ombra di una nuvola passava sul campo di grano e tra gli alberi si vedeva il fiume e potremmo avere tutto questo disse la ragazza e potremmo avere tutto e ogni giorno lo rendiamo più impossibile che hai detto? ho detto che potremmo avere tutto possiamo avere tutto no che non possiamo possiamo avere il mondo intero no che non possiamo possiamo andare dappertutto no che non possiamo non è più nostro è nostro no non lo è e quando te l'hanno portato via non riesci a riaverlo mai più poi dice ma non ce l'hanno portato via aspettiamo e vedremo eccetera eccetera ragazzi non fatemi ridere ho letto le cose che mi fa molto ridere il chat si parla di aborto ne siamo sicuri anche a me è venuto da pensare all'aborto e quindi confermiamo che si non è non è non è aborto sentite sapete cosa vi dico colline come le fantimee facciamo una ricerchina abbiate pazienza dimmi che c'è un emi una paginetta se volete vi leggo cosa disse lo stesso Hemingway dell'origine di colline come le fanti bianchi Hemingway proprio in quella stessa intervista bla 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 dice questo racconto è considerato un capolavoro inarrivabile si parla di Carver in questo articolo si cita subito Carver pochissimi elementi descrittivi pochissime diodascalie pochissime parole tutt'altro che esplicite spesso allusile ok non andrà chiaro 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 è proprio un'analisi di tutto il racconto bello 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 cercate su su minimite moralia vedo se riesco a darvi link aspettate ecco 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 qua se riesco a darvelo su streamlabs ecco le regole della mia stessa chat ecco qua c'è un bellissimo articolo su questo su questo su questo racconto infatti l'uomo dice l'unica cosa che ci preoccupa l'unica cosa che ci ha reso infelici la facciamo e siamo a posto e dopo sarà tutto di nuovo bello eccetera chiaro chiaro bellissimo 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 articolo sembra molto bello c'è un ticchettio dell'orlogio ho un ottimo microfono ok 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 a me è piaciuto mi è piaciuto mi è piaciuto e potrebbe essere quello che dici tu il fatto MBBM potrebbe essere che addirittura il figlio sia di un altro chi lo sa è impossibile saperlo neanche in un film di Bergman è un classico Blu Yeti da youtuber insomma e non ha usato il dannato il maledettamente è bello quel sito molto sì 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 e rileggiono tutto secondo me non ce n'è tanto bisogno vi dico la verità aspettate ma vi dico non lo trovo perché non lo trovo mai perché non so che pagina è dai arrivo ci sono e allora 2 8 1 lo rileggiamo tutto volete rileggerlo ma secondo me non è così criptico è successo no allora sono d'accordo di non rileggerlo perché secondo me non ce n'è bisogno non è così criptico sono piuttosto ne discutiamo che secondo me è la cosa migliore sono due persone come diceva l'articolo che sono riuscito a intravedere che hanno due livelli di sensibilità differente e soprattutto che per ovvi motivi danno un peso differente allo stesso episodio presumibilmente un aborto o un'operazione post aborto qualcosa di legato a qualcosa del genere ma che differita che abbiamo e questa cosa secondo me è molto interessante perché mentre per lui non è successo niente e facciamo questa cosa e non c'è più problema invece per lei è la rottura è qualche cosa che si è che si è spezzato che si è una perdita non voglio dire dell'innocenza una perdita di un mondo insieme di una leggerezza insieme che non hanno più che non possono più avere quindi il discorso dell'aborto legato quindi al fatto che sono d'accordo o sono stati perché bisogna capire sia un'operazione post ma comunque è legata a quello sono o meno d'accordo per lui non è nulla lei ha pensato a qualche cosa per lei ha un peso differente certo, certo, certo e quindi c'è qualche cosa di l'articolo parlava chiaramente di incomunicabilità lei l'episodio la trasferisce in una dimensione differente rispetto alla sua lei non riesce più forse si potrebbe addirittura dire ad amarlo come lo amava prima è questo che che è dentro a questo episodio e quindi è una descrizione incredibilmente sottile di qualcosa di dolorosissimo tremendo perché è la solitudine di questa ragazza e l'incomunicabilità in questo caso è la sua impossibilità di vivere insieme a lui l'esperienza e e questo è l'addio a tutte quelle cose che potevano avere senza quel errore sfortuna o quello che è stato a me è piaciuto molto però che sia un un racconto molto 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 bello e e comunque una cosa che che devo dire a Hemingway a me rimane molto cioè mi rimangono molto queste immagini e questa è un'altra cosa estremamente importante secondo me è chiaro che non è oggi non stiamo certamente leggendo racconti che poi arriva il finale ecco tutto ma credo che anche con Borges sarà così ve lo dico tutto abbiamo stasera meno che dei finali meno che delle risoluzioni dei dei climax o climax o una climax dite come vi pare però sinceramente l'ho molto molto apprezzato vi dico la verità eh sì Calypso davvero credo credo proprio che tu abbia ragione te lo dico vero a che ci serve il finale ragazzi non so cosa ci aspetta con Borges ve lo dico ma i carrieri in realtà lo possiamo fare anche adesso Jordan discutere tanto i racconti di Borges ragazzi è velocissimo i vostri racconti siamo a 105 il finale Borges sono mezzo blind cioè li ho letti tipo 15 anni fa non mi ricordo una fava il concetto di finale secondo me dipende molto da che cosa tu vuoi ottenere noi stiamo leggendo racconti questa è letteratura americana stiamo facendo veramente un viaggio nella letteratura americana dove c'è una certa asciuttezza no quando leggevamo la Ampel Ampel insomma lì da qualche parte e proprio Calypso diceva secco secco sono secchi questo è uno stile estremamente che va in totale spregio delle emozioni facili delle cose a cui siamo abituati cerca di di prenderci di lato di di fregarci di smarcarsi da quello che noi ci aspettiamo senza fronzoli senza dubbio e ah certo mi ricordo le cose che mi colpiscono mi ricordo sempre e quindi è uno stile che vuole rimanere in un modo diverso a volte finisci veramente questi racconti di ma ma dov'è ma come però poi però poi ti fermi un attimo sono sono d'accordo mi faccio sicuramente un pochino influenzare da quell'articolo che vi linkavo prima o dalla quarta di copertina ma questo racconto che abbiamo letto è sicuramente qualcosa di notevole di notevolissimo in poche pagine quante cose riesce a mettere e quindi è tutto spontaneo anche perché il racconto quello lì di Hemingway non l'avevo mai letto e neanche quello di Carver questo che leggiamo adesso l'ho letto a suo tempo perché ha una stellina non ho la più palida idea di cosa parli si chiama il duello quindi siamo di nuovo in un borga senile nella periferia di Buenos Aires e vi posso dire che dura poco sono pochissime pagine ed è seguito da un racconto che si chiama l'altro duello vediamo magari li leggiamo tutti e due grazie Vexem grazie mille del supporto vi ricordo sempre che se avete Amazon Prime potete fare il vostro abbonamento mensile a questo canale senza spendere altro ve lo dico nel caso vi andasse e vi dirò di più visto che mi fate venire in mente la pecunia non solo mi fate venire in mente anche questa bazza qui ora succederà qualcosa di spiacevole ma soltanto ad alcuni di voi se premo il pulsante giusto partito partito mi dispiace mi dispiace è successo grazie unspeakable grid spero che tu non stia avendo la pubblicità solo ai poracci ciao poveri è una roulette russa davvero ci sarebbe da mettere una musichetta per chi rimane è bello vedere la gioia da morstua vita mea di quelli che sono sopravvissuti siamo sopra i 270 sub o sub non siamo ancora non sono ancora dove vorrei essere però mi sento tanto twitcher e sono molto contento ci siamo siete tutti qui e quindi se vi va kafka ci sta a riportarlo non so quando vale un mese vale un mese quindi va va rinnovata non so poi come funzioni se te lo notificano non chiedetemi come si fa perché io non lo so tipo non sarebbe male se mi informassi però sì infatti freddi veramente muove l'economia ragazzi infatti freddi se ci sei arigato e detto questo torniamo in mood Borges 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 oramai lo conosciamo ha fatto ha fatto il suo nel senso che ho visto che a voi è piaciuto a me è piaciuto ma forse è il mio scrittore preferito e ma il vero Borges come vi dicevo non l'abbiamo neanche sfiorato in ogni caso il duello racconto tardivo del nostro dedicato a Juan Osvaldo Viviano che non so chi sia infatti freddi infatti che sete che ho stasera Henry James la cui opera mi è stata rivelata da una delle mie due protagoniste la signora Figueroa non avrebbe forse disdegnato la storia ci siete ragazzi siamo in diretta funziona tutto ok Henry James la cui opera mi è stata rivelata da una delle mie due protagoniste la signora Figueroa non avrebbe forse disdegnato la storia le avrebbe dedicato più di cento pagine di ironia e tenerezza infiorate di dialoghi complicati e scrupolosamente ambigui e non è escluso che vi avrebbe aggiunto qualche tratto melodrammatico l'essenziale non avrebbe subito modificazioni a causa dello scenario diverso Londra o Boston i fatti accadderò a Buenos Aires e lì li lascerò mi limiterò a un riassunto del caso poiché la sua lenta evoluzione e il suo ambito mondano sono estranei alle mie abitudini letterarie dettare questo racconto è per me un'avventura modesta e marginale devo avvertire il lettore che gli episodi sono meno importanti della situazione che ne è la causa e dei personaggi molto e grazie a Rob molto e quasi raramente anche se qui e là Borges li mette riferimenti biografici anche se sempre molto dall'elicottero però qui è molto molto il Borges anziano e qui è proprio Horge Luis Borges che sta parlando perché a un certo punto dice dettare questo racconto Borges è cieco e li detta i racconti soprattutto come vi dicevo in età anziana dettare questo racconto è per me un'avventura modesta e marginale devo avvertire il lettore che gli episodi sono meno importanti della situazione che ne è la causa e dei personaggi cazzo ragazzi ragazzi ma qua grazie flirty grazie mille come scrive Clara Glencara de Figueroa era altera e alta con una chioma rossofuoco meno intellettuale che comprensiva non era una donna d'ingegno qui ridonda leggermente ridondante ma sapeva apprezzare in realtà qui spiegano meno intellettuale che comprensiva cioè non era una donna d'ingegno ma sapeva apprezzare quello degli altri e sentite la classe e perfino delle altre c'è un mondo grazie steve grazie davvero meraviglioso mamma mia io adoro quest'uomo vabbè lo sapete Clara Glencara Figueroa era altera e alta con una chioma rossofuoco meno intellettuale che comprensiva non era una donna d'ingegno ma sapeva apprezzare quello degli altri e perfino delle altre nella sua anima c'era ospitalità le piacevano le differenze forse per questo viaggiò tanto cazzo raga a parte nella sua anima c'era ospitalità ma le piacevano le differenze ma vi rendete conto le piacevano le differenze io non lo so come si fa a scrivere così le piacevano le differenze punto e virgola forse per questo viaggiò tanto qualcuno ha detto sintesi no ma di cosa cazzo stiamo parlando ragazzi e questo è il Borges ma poi in realtà io ho sempre amato il manoscritto di Brody minore sto cazzo bellissimo sapeva che l'ambiente che le era toccato in sorte era un insieme talvolta arbitrario di rituali e di cerimonie ma quei rituali la divertivano e li compiva con dignità i genitori la diedero in sposa ancora molto giovane al dottor Isidro Figueroa che fu nostro ambasciatore in Canada e finì per rinunciare all'incarico con la motivazione che in un'epoca di telegrafi e di telefoni le ambasciate erano un anacronismo e costituivano una spesa inutile questa decisione gli valse il rancore di tutti i suoi colleghi a Clara piaceva il clima di Ottawa dopo tutto era di stirpe scozzese e non le dispiacevano i doveri della moglie di un ambasciatore ma non si sognò neppure di protestare Figueroa morì di lì a poco Clara dopo alcuni anni di indecisione e di intima ricerca si dedicò all'esercizio della pittura forse incoraggiata dall'esempio di Marta Pizarro una sua amica mamma mia ragazzi mamma mia mamma mia solo questo capoverso sarebbe da insegnare a scuola è fuori è fuori dal mondo ma scusate ma sapeva che l'ambiente che le era toccato in sorte era un insieme talvolta arbitrario di rituali e di cerimonie ma quei rituali la divertivano e li compiva con dignità i genitori la diedero in sposa ancora ma grazie lo streben grazie mille sapete che non ci sono gli alert sonori e quindi ringrazio anche quelli che non sono riuscito a vedere grazie gamban gambandrino jig ragazzi i mic perché scrive da dio caro Giorgio e in una serata di letture un grande scrittore è proprio quello che ci vuole e questo è un grande scrittore non dico niente tientele queste queste osservazioni tientele che non le devi dire era tipico e quindi torniamo dove siamo arrivati Clara dopo alcuni anni di indecisione di intima ricerca si dedicò all'esercizio e muore il marito eccetera eccetera si dedicò all'esercizio della scrittura forse incoraggiata dall'esempio di Marta Pisarro una sua amica era tipico di Marta Pisarro il fatto che nel riferirsi a lei tutti la definissero come la sorella della brillante Nelida Nelida Sara sposata e separata prima di scegliere il pennello Marta Pisarro aveva preso in considerazione l'alternativa delle letture quindi vedete come ci siamo spostati da un personaggio all'altro riusciva a essere spiritosa in francese lingua abituale delle sue letture lo spagnolo per lei quindi ritorniamo da prima voglio farlo bene Clara dopo alcuni anni di indecisione e di intima ricerca si dedicò all'esercizio della pittura forse incoraggiata dall'esempio di Marta Pisarro una sua amica era tipico di Marta Pisarro il fatto che nel riferirsi a lei tutti la definissero come la sorella della brillante Nelida Sara sposata e separata la brillante Nelida Sara chissà se tornerà prima di scegliere il pennello Marta Pisarro aveva preso in considerazione l'alternativa delle letture quindi questo ci dà già un background da intellettuale mentre quante informazioni che abbiamo già sono tantissime e mentre Clara meno intellettuale che comprensiva non era una donna d'ingegno ma sapeva apprezzare quello degli altri e perfino delle altre questa invece che tutti la definiscono come la sorella della brillante tizia era indecisa fra la pittura e le letture capite no? quanta roba delle lettere scusate delle lettere sorry sorry delle letture delle letture su Twitch considerava di fare le letture su Twitch delle lettere bravi che avete il libro bravi bravi guardate qua bravissimi bravi bravi delle lettere comunque se siamo capiti insomma le lettere si leggono riusciva a essere spiritosa in francese lingua abituale delle sue letture ah però c'erano le letture o no? grazie rigogliosa terra c'erano c'erano bravi sono contento sono contento quindi capite il livello no? capite il livello riusciva a essere spiritosa in francese lingua abituale delle sue letture lo spagnolo per lei non era che un semplice strumento domestico come il guaranì per le signore della provincia di Corrientes i giornali le avevano dato l'opportunità di leggere pagine di Lugones e del madrileno Ortega y Gasset lo stile di quei maestri confermò in lei il sospetto che la lingua a cui era predestinata fosse meno adatta a esprimere il pensiero o le passioni che la vacuità verbosa conosceva della musica solo quel che deve sapere ogni persona che assiste correttamente a un concerto era della provincia di San Luis iniziò la sua carriera con scrupolosi ritratti di Juan Crisostomo Lafinur e del colonnello Pasquale Pringles che vennero acquistati come era prevedibile dal museo provinciale dai ritratti di notabili locali passò alle case vecchie di Buenos Aires tratteggiandone i modesti cortili con modesti colori non con la chiassosa scenografia di cui altri li dotano qualcuno che sicuramente non fu la signora Figueroa disse che tutta la sua arte si alimentava dell'opera dei capomastri genovesi del XIX secolo sapete che c'è tutta una storia di genovesi a Buenos Aires il quartiere di Boca la Boca da cui il Boca Junior insomma c'è tutta una storia di italiani genovesi in Argentina e a Buenos Aires tra Clara Glencairn Glencairn e Nelida Sara quindi Clara e Nelida la famosa la sorella che a quanto si dice aveva goduto una volta del dottor Figueroa ci fu sempre una certa rivalità forse il duello si svolse fra loro due e Marta e fu uno strumento strumento capite? quindi Clara la prima aveva una rivalità con la sorella di questa Marta ok? tra Clara e Nelida Nelida che a quanto si dice aveva goduto una volta del dottor Figueroa ci fu sempre una certa rivalità forse il duello si svolse fra loro due e Marta e Marta ne fu uno strumento ok? Marta che è questa che faceva ridere in francese ok? che voleva fare le letture tutto a quanto ne sappiamo accade inizialmente in altri paesi e alla lunga nel nostro la setta di non scrivete delle maialate dai tutto a quanto ne sappiamo accade inizialmente in altri paesi e alla lunga nel nostro la setta di pittori oggi così ingiustamente dimenticata che prese il nome di concreta o astratta a indicare il suo disdegno per la logica e il linguaggio è uno dei tanti esempi i pittori astratti quindi sosteneva mi pare che come alla musica è permesso creare un proprio mondo di suoni così anche alla pittura sua sorella avrebbe potuto sperimentare colori e forme che non riproducessero quelli delle cose che i nostri occhi vedono lì Kaplan scrisse che le sue tele che indagavano i borghesi rispettavano la biblica proibizione condivisa dall'islam di costruire con mani umane idoli di esseri viventi gli iconoclasti concludeva stavano restaurando la genuina tradizione dell'arte pittorica falsata da eretici come Dürer o come Rembrandt i suoi detrattori lo accusarono di invocare l'esempio che ci offrono i tappeti i caleidoscopi o le cravate le rivoluzioni estetiche propongono alla gente la tentazione dell'irresponsabilità e della facilità ma Dio indignavano indignavano ho messo indagavano ho detto indagavano bravi ragazzi bravi lo vogliamo rileggere volete che lo rileggiamo rileggiamo l'ultima frase le rivoluzioni estetiche propongono alla gente la tentazione dell'irresponsabilità e della facilità Clara Glencairn scelse di essere una pittrice astratta questo è già un giudizio no? sulla scorta di quelli che aveva dato prima perché Clara meno intellettuale che comprensiva c'era ospitalità le piacevano le differenze ok? aveva sempre professato il culto di Turner si preparò ad arricchire l'arte concreta con i suoi splendori indefiniti lavorò senza fretta rifece o distrusse varie composizioni e nell'inverno del 1954 espose una serie di tempere in una galleria di calle sui Pacia la cui specialità erano le opere che con una metafora militare allora in voga venivano definite di avanguardia accadde un fatto paradossale la critica in generale fu benevola ma l'organo ufficiale della setta censurò quelle forme anomale che pur non essendo figurative suggerivano il tumulto di un tramonto di un bosco o del mare e non si rassegnavano a essere austeri cerchi e linee insomma volevano salire a bordo della setta dei pittori astratti ma in realtà questa setta cosiddetta non non la adotta forse la prima a sorriderne era stata Clara Gleincairne aveva voluto essere moderna e i moderni la rifiutavano la realizzazione della sua opera le importava più del successo e non smise di lavorare indifferente a questo episodio la pittura proseguiva il suo corso era già iniziato il duello segreto grazie Techward grazie mille Albi non dire così era già iniziato il duello segreto Marta non era soltanto un artista si interessava con passione a ciò che non è ingiusto definire l'aspetto amministrativo dell'arte ed era vice segretaria della società chiamata il cerchio di giotto verso la metà del 1955 ottenne che Clara già ammessa come socia figurasse come consigliere nella lista del nuovo direttivo il fatto in apparenza banale merita di essere analizzato Marta aveva appoggiato la sua amica ma è indiscutibile per quanto misterioso che la persona che concede un favore risulta in qualche modo superiore a quella che lo riceve intorno al 60 due pennelli di livello internazionale ci si perdoni questo gergo si disputavano un primo premio uno dei candidati il più anziano aveva dedicato solenni quadri a olio alla rappresentazione di gauchos spaventosi di un'altezza scandinava il suo rivale piuttosto giovane aveva suscitato applausi e scandalo con la studiata incoerenza i membri della giuria che avevano superato il mezzo secolo temevano che la gente li accusasse di seguire un criterio antiquato ed erano propensi a votare per quest'ultimo che nel loro intimo non apprezzavano dopo tenaci dibattiti fatti all'inizio di cortesia e alla fine di noia non riuscivano a mettersi d'accordo nel corso della terza discussione qualcuno osservò B mi sembra brutto sinceramente mi sembra inferiore alla stessa signora Figueroa lei la voterebbe disse un altro in tono ironico sì replicò il primo che si era già irritato quella sera stessa il premio venne assegnato all'unanimità a Clara Glencairn era distinta amabile moralmente ineccepibile e nella sua villa del Pilar dava spesso ricevimenti le cui fotografie apparivano sulle riviste più costose la rituale cena d'onore venne organizzata e offerta da Marta Clara la ringraziò con poche opportune parole osservò che non c'è conflitto fra tradizione e innovazione tra ordine e avventura e che la tradizione è una trama secolare di avventure che è la citazione da Paul Liner che fa anche eco in semiotica e filosofia del linguaggio come sapete benissimo perché sono certo che abbiate letto semiotica e filosofia del linguaggio se no che state a fa andatelo a leggere alla manifestazione assistettero numerose persone d'alto rango quasi tutti i membri della giuria e qualche pittore tutti pensiamo che il caso ci abbia riservato un ambiente meschino e che gli altri siano migliori il culto dei gauchos e il beatus ille sono nostalgie urbane clara glencairn e marta sazia della routine dell'ozio anelavano al mondo degli artisti gente che aveva dedicato la propria vita alla creazione di cose belle presumo che in cielo i beati ritengano che i vantaggi di tale luogo siano stati esagerati dai teologi che non ci sono mai stati forse all'inferno i reprobi non sono sempre infelici un paio d'anni dopo si svolse nella città di Cartagena il primo congresso internazionale di artisti plastici latino-americani ogni paese inviò il suo rappresentante la tematica ci si perdoni il gergo era di palpitante interesse può l'artista prescindere dall'elemento autoctono può omettere o eludere la fauna e la flora può essere insensibile alla problematica di carattere sociale può non unire la sua voce a quella di chi sta combattendo l'imperialismo anglosassone eccetera eccetera prima di diventare ambasciatore in Canada il dottor Figueroa aveva svolto un incarico diplomatico a Cartagena acclara che si era un po' montata la testa per via del premio sarebbe piaciuto tornarci adesso come artista quella speranza svanì il governo designò Marta Pizarro il suo intervento benché non sempre convincente fu non poche volte brillante secondo la testimonianza imparziale dei corrispondenti di Buenos Aires la vita esige una passione le due donne la trovarono nella pittura o per meglio dire nel rapporto che essa impose loro Clara Glencairn dipingeva contro Marta e in un certo senso per Marta ciascuna era il giudice e il solitario pubblico della rivale in quelle tele che nessuno guardava più mi sembra di cogliere come era inevitabile un'influenza reciproca è importante non dimenticare che le due si volevano bene e che nel corso di quell'intimo duello agirono con perfetta lealtà fu in quegli anni che Marta ormai non più tanto giovane rifiutò un'offerta di matrimonio le interessava solo la sua battaglia il 2 febbraio 1964 Clara Glencairn morì di un aneurisma le pagine dei giornali le dedicarono lunghi necrologi di quelli che ancora oggi sono di rigore nel nostro paese in cui la donna è un esemplare della specie e non un individuo a parte qualche frettoloso cenno alla sua passione pittorica e al suo raffinato buon gusto ne esaltarono la fede la bontà la quasi anonima e costante filantropia il lignaggio aristocratico il generale Glencairn aveva combattuto nella campagna del Brasile e la eminente posizione nei circoli più esclusivi Marta comprese che la sua vita non aveva più senso non si era mai sentita così inutile ricordò le sue prime prove ora lontane ed espose al salone nazionale un sobrio ritratto di Clara alla maniera di quei maestri inglesi che entrambe avevano ammirato qualcuno la giudicò la sua opera migliore non avrebbe più dipinto in quel duello delicato che solo pochi intimi abbiamo percepito che solo in pochi intimi abbiamo percepito non ci furono sconfitte né vittorie né un contrasto o altre circostanze evidenti oltre a quelle che ho cercato di registrare con rispettosa penna solo Dio di cui ignoriamo le preferenze estetiche può assegnare la palma finale la storia che si svolse nell'ombra finisce nell'ombra bello 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 e lo rileggiamo e lo rileggiamo e lo rileggiamo e lo rileggiamo tutto con calma sono le 22.51 siamo qui a leggere e lo rileggiamo tutto lo rileggiamo tutto con calma e rilassatezza per rigoderci questo racconto meraviglioso meraviglioso bellissimo è quasi commovente nella sua educazione Henry James il titolo, ricordiamocelo, è Il duello Henry James, la cui opera mi è stata rivelata da una delle mie due protagoniste, la signora Figueroa non avrebbe forse disdegnato la storia ne avrebbe dedicato più di cento pagine di ironia e tenerezza, infiorate di dialoghi complicati e scrupolosamente ambigui e non è escluso che vi avrebbe aggiunto qualche tratto melodrammatico l'essenziale non avrebbe subito modificazioni a causa dello scenario diverso Londra o Boston i fatti accaddero a Buenos Aires e lì li lascerò mi limiterò a un riassunto del caso poiché la sua lenta evoluzione e il suo ambito mondano sono estranei alle mie abitudini letterarie dettare questo racconto è per me un'avventura modesta e marginale devo avvertire il lettore che gli episodi sono meno importanti della situazione che ne è la causa e dei personaggi Clara Glencairn de Figueroa era altera e alta con una chioma rosso fuoco meno intellettuale che comprensiva non era una donna d'ingegno ma sapeva apprezzare quello degli altri e perfino delle altre nella sua anima c'era ospitalità le piacevano le differenze forse per questo viaggiò tanto sapeva che l'ambiente che le era toccato in sorte era un insieme talvolta arbitrario di rituali e di cerimonie ma quei rituali la divertivano e li compiva con dignità i genitori la diedero in sposa ancora molto giovane al signor al dottor Isidro Figueroa che fu nostro ambasciatore in Canada e finì per rinunciare all'incarico con la motivazione che in un'epoca di telegrafi e di telefoni le ambasciate erano un anacronismo e costituivano una spesa inutile questa decisione gli valse il rancore di tutti i suoi colleghi a Clara piaceva il clima di Ottawa dopo tutto era di stirpe scozzese e non le dispiacevano i doveri della moglie di un ambasciatore ma non si sognò neppure di protestare Figueroa morì di lì a poco Clara dopo alcuni anni di indecisione ed intima ricerca si dedicò all'esercizio della pittura forse incoraggiata dall'esempio di Marta Pizarro una sua amica prima di scegliere il pennello scusate ho soltato un pezzo era tipico di Marta Pizarro il fatto che nel riferirsi a lei tutti la definissero come la sorella della brillante Nelida Sara sposata e separata sposata e separata che pare abbia goduto del Figueroa prima di scegliere il pennello Marta Pizarro aveva preso in considerazione l'alternativa delle lettere riusciva a essere spiritosa in francese lingua abituale delle sue letture lo spagnolo per lei non era che un semplice strumento domestico come il Garani per le signore della provincia di Corrientes i giornali le avevano dato l'opportunità di leggere pagine di Lugones o del madrileno Ortega e Gasset lo stile di quei maestri confermò in lei il sospetto che la lingua a cui era predestinata fosse meno adatta a esprimere il pensiero o le passioni che la vacuità verbosa conosceva della musica solo quel che deve sapere ogni persona che assiste correttamente a un concerto era della provincia di San Luis iniziò la sua carriera con scrupolosi ritratti di Juan Crisostomo Lafinur e del colonnello Pasquale Pringles che vennero acquistati come era prevedibile dal museo provinciale dai ritratti di notabili locali passò alle case vecchie di Buenos Aires tratteggiandone i modesti cortili con modesti colori non con la chiassosa scenografia di cui altri li dotano qualcuno che sicuramente non fu la signora Figueroa disse che tutta la sua arte si alimentava dell'opera dei capomastri genovesi del diciannovesimo secolo tra Clara Glencairn e Nellida Sara che a quanto si dice aveva goduto una volta del dottor Figueroa ci fu sempre una certa rivalità forse il duello si svolse fra loro due e Marta forse madonna di Dio forse il duello si svolse fra loro due e Marta ne fu uno strumento tutto a quanto ne sappiamo accade inizialmente in altri paesi alla lunga nel nostro la setta di pittori oggi così ingiustamente dimenticata che ha preso il nome di concreta o astratta a indicare il suo disdegno per la logica e il linguaggio è uno dei tanti esempi sosteneva mi pare che come alla musica è permesso creare un proprio mondo di suoni così anche la pittura sua sorella avrebbe potuto così anche la pittura sua sorella avrebbe potuto sperimentare colori e forme che non riproducessero quelli delle cose che i nostri occhi vedono Lee Kaplan scrisse che le sue tele che indignavano i borghesi rispettavano la biblica proibizione condivisa dall'islam di costruire con mani umane idoli di esseri viventi gli iconoclasti concludeva stavano restaurando la genuina tradizione dell'arte pittorica falsata da eretici come Dürer o come Rembrandt i suoi detrattori lo accusarono di invocare l'esempio che ci offrono i tappeti i caleidoscopi o le cravate questa parte è bellissima le rivoluzioni estetiche propongono alla gente la tentazione e dell'irresponsabilità e della facilità Clara Glencairn scelse di essere una pittrice astratta aveva sempre professato il culto di Turner si preparò ad arricchire l'arte concreta con i suoi splendori indefiniti lavorò senza fretta rifece o distrusse varie composizioni e nell'inverno del 1954 espose una serie di tempere in una galleria di Calle Sui Pacia la cui specialità erano le opere che con una metafora militare allora in voga venivano definite di avanguardia accadde un fatto paradossale la critica in generale fu benevola ma l'organo ufficiale della setta censurò quelle forme anomale che pur non essendo figurative suggerivano il tumulto di un tramonto di un bosco del mare e non si rassegnavano essere austeri cerchi e linee forse la prima a sorriderne era stata Clara Glencairn aveva voluto essere moderna e i moderni la rifiutavano la realizzazione della sua opera le importava più del successo e non smise di lavorare indifferente a questo episodio la pittura proseguiva per il suo corso proseguiva il suo corso era già iniziato il duello segreto Marta non era soltanto un artista si interessava con passione a ciò che non è ingiusto definire l'aspetto amministrativo dell'arte ed era vice segretaria della società chiamata il cerchio di Giotto verso la metà del 1955 ottenne che Clara già ammessa come socia figurasse come consigliere nella lista del nuovo direttivo il fatto in apparenza banale merita di essere analizzato Marta aveva appoggiato la sua amica ma è indiscutibile per quanto misterioso che la persona che concede un favore risulta in qualche modo superiore a quella che lo riceve fine 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 intorno al 60 due pennelli di livello internazionale ci si perdoni questo gergo si disputavano un primo premio uno dei candidati il più anziano aveva dedicato solenni quadri a olio alla rappresentazione di gauchos spaventosi di un'altezza scandinava il suo rivale piuttosto giovane aveva suscitato applausi e scandalo con la studiata incoerenza i membri della giuria che avevano superato il mezzo secolo temevano che la gente li accusasse di seguire un criterio antiquato ed erano propensi a votare per quest'ultimo erano propensi a votare per quest'ultimo che nel loro intimo non apprezzavano questa è una bellissima descrizione adesso a parte tutto questa è una bellissima descrizione dell'ipocrisia e di persone che nel loro nel loro mestiere badano la reputazione una descrizione meravigliosa ma universale al di là di questo contesto i membri della giuria che avevano superato il mezzo secolo temevano che la gente li accusasse di seguire un criterio antiquato ed erano propensi a votare per quest'ultimo che nel loro intimo non apprezzavano pazzesco dopo tenaci dibattiti fatti all'inizio di cortesia e alla fine di noia non riuscivano a mettersi d'accordo nel corso della terza discussione qualcuno osservò B mi sembra brutto sinceramente mi sembra inferiore alla stessa signora Figueroa lei la voterebbe? disse un altro con tono ironico sì replicò il primo che si era già irritato quella sera stessa il premio venne assegnato all'unanimità a Clara Glencairn era distinta amabile moralmente ineccepibile e nella sua villa del Pilard dava spesso ricevimenti le cui fotografie apparivano sulle riviste più costose la rituale cena d'onore venne organizzata e offerta da Marta Clara la ringraziò con poche opportune parole osservò che non c'è conflitto fra tradizione e innovazione fra ordine e avventura e che la tradizione è una trama secolare di avventure alla manifestazione assistettero numerose persone d'alto rango quasi tutti i membri della giuria e qualche pittore ci siamo io vi leggo io vi leggo ragazzi mi sembra che siamo ancora in live tutti pensiamo che il caso ci abbia riservato un ambiente meschino e che gli altri siano migliori adoro questi questi intermezzi incredibili che se ti racconto una storielina piccina piccina poi una riga e mezzo in cui ti parla dell'universo poi torna è allucinante tutti pensiamo che il caso ci abbia riservato un ambiente meschino e che gli altri siano migliori vi leggo un attimo certo 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 assolutamente il culto dei gauchus e il beatus hill sono nostalgie urbane Clara Glencairn e Marta sazie della routine dell'ozio anelavano al mondo degli artisti gente che aveva dedicato la propria vita alla creazione di cose belle presumo che in cielo i beati e ritengano che i vantaggi di tale luogo siano stati esagerati dai teologi che non ci sono mai stati forse all'inferno i reprobi non sono sempre infelici un paio d'anni dopo si svolse nella città di Cartagena il primo congresso internazionale di artisti plastici latinoamericani ogni paese inviò il suo rappresentante la tematica ci si perdoni il gergo era di palpitante interesse può l'artista prescindere dall'elemento autoctono può omettere o eludere la fauna e la flora può essere insensibile alla problematica di carattere sociale può non unire la sua voce a quella di chi sta combattendo l'imperialismo anglosassone eccetera eccetera prima di diventare ambasciatore in Canada il dottor Figueroa aveva svolto un incarico diplomatico a Cartagena a Clara che si era un po' montata la testa per via del premio sarebbe piaciuto tornarci adesso come artista quella speranza svanì il governo designò Marta Pizarro il suo intervento benché non sempre convincente fu non poche volte brillante secondo la testimonianza imparziale dei corrispondenti di Buenos Aires Lanita esige una passione le due donne la trovarono nella pittura o per meglio dire nel rapporto che essa impose loro Clara Glencairn dipingeva contro Marta e in un certo senso per Marta ciascuna era il giudice e il solitario pubblico della rivale in quelle tele che nessuno guardava più mi sembra di cogliere come era inevitabile un'influenza reciproca è importante non dimenticare che le due si volevano bene e che nel corso di quell'intimo duello agirono con perfetta lealtà fu in quegli anni che Marta ormai non più tanto giovane rifiutò un'offerta di matrimonio le interessava solo la sua battaglia il 2 febbraio 1964 Clara Glencairn morì di un aneurisma le pagine dei giornali le dedicarono lunghi necrologi di quelli che ancora oggi sono di rigore nel nostro paese in cui la donna è un esemplare della specie e non un individuo a parte qualche frettoloso cenno la sua passione pittorica e il suo raffinato buon gusto ne esaltarono la fede la bontà la quasi anonima e costante filantropia il lignaggio aristocratico il generale Glencairn aveva combattuto nella campagna del Brasile e la eminente posizione nei circoli più esclusivi Marta comprese che la sua vita non aveva più senso non si era mai sentita così inutile ricordò le sue prime prove ora lontane e dispose al salone nazionale un sobrio ritratto di Clara alla maniera di quei maestri inglesi che entrambe avevano ammirato qualcuno la giudicò la sua opera migliore non avrebbe più dipinto in quel duello delicato che solo in pochi intimi abbiamo percepito non ci furono sconfitte né vittorie né un contrasto o altre circostanze evidenti oltre a quelle che ho cercato di registrare con rispettosa penna solo Dio di cui ignoriamo le preferenze estetiche può assegnare la palma finale la storia che si svolse nell'ombra finisce nell'ombra esattamente esattamente MBBM non sono assolutamente due grandi artiste stiamo parlando di due artiste assolutamente minori e soltanto il vecchio Borges nell'ombra che è la cecità di Borges ovviamente dove finisce questa storia soltanto lui la sa questa cosa non la sa nessuno sono due artiste assolutamente marginalissime che si erano ultra dimenticate sono già dimenticate ma in un in un andito dove nessuno guarda e guarda l'occhio cieco di Borges c'è una storia meravigliosa una storia di due vite che sono state intorno a questa cosa che hanno vissuto per questa cosa di due persone che si sono volute bene bello bellissimo c'era un'altra passione oltre alla pittura ma ragazzi un passaggio una riga una mezza riga la vita esige una passione la vita esige una passione così di passaggio le due donne la trovarono e questa che invece è una parte molto biografica da parte di Borges perché Borges è stato un grandissimo autore super celebrato eccetera eccetera e quando dice poi la gente si immagina che sia tutta stafigata in realtà non lo è però io potrei dire così Borges dice invece tutti pensiamo che il caso ci abbia riservato un ambiente meschino e che gli altri siano migliori il culto dei Gauchos e il Beato Sille sono nostalgia urbana e clara sazia della routine dell'ozio anelavano al mondo degli artisti gente che aveva dedicato la propria vita alle creazioni di cose belle presumo che in cielo i Beati ritengano che i vantaggi di tale luogo siano stati esagerati dai teologi che non ci sono mai stati forse all'inferno i reprobi non sono sempre infelici e quindi insomma questo questo era il nostro Horge Luis Borges dio di cui ignoriamo le preferenze estetiche sì 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 che meraviglia mamma mia che meraviglia che meraviglia la prossima volta che leggeremo Borges magari lo facciamo saltare un giro però a questo punto mi interessa sappiate che dopo questo racconto che si intitola Il duello c'è un racconto che si chiama L'altro duello altrettanto breve quindi lo leggeremo prima o poi assolutamente sì visto che gli ho messo la stellina anche all'altro sì sì Borges ha davvero la capacità di essere rinfrescante di essere non è indefinibile come scrittore nasce vi ricordo come avanguardista argentino nella sua gioventù non mi ricordo come cazzo si chiamava la sua avanguardia ma è altrove rispetto a qualunque cosa della letteratura del novecento non c'entra mica Borges non c'entra niente con nessuno è totalmente nel suo mondo di classici nella sua infinita biblioteca nel suo sapere inarrivabile enciclopedia vivente era quell'uomo era era leggendaria la sua erudizione così come la sua memoria un po' come poi sarà per Econo un classico senza tempo Borges veramente la definizione di di classico senza tempo è perfetta per Borges ecco vediamo vediamo arriverà tutto arriverà tutto abbiamo la vita davanti a insomma facciamo le cose un pochino alla volta Funes beh sì il prossimo sarà sicuramente un altro duello non c'è dubbio anche perché devo dire che sono felicissimo di stare ripescando il manoscritto di Brody ovviamente l'altro giorno quando abbiamo letto Tigri Blu insomma lì è un Borges un po' più con il piede sull'acceleratore lì è veramente un racconto della madonna però apprezzo tantissimo questo stile di questo libro mi piace da morire da morire che meraviglia vediamo Sasha vediamo c'è tutto l'universo dello scibile papabile ci pensiamo adesso ho tanti racconti vorrei andare un pochino avanti con i racconti vi ricordo che martedì alle 16 facciamo Alice Murrow con In Fuga e ce lo gustiamo e è così ragazzuoli Tigri Blu viene dalla ragazza te lo faccio vedere anche se adesso credo abbia una copertina diversa però il libro di sabbia quando ho fatto quello spettacolo qua a Bologna che si chiamava Uni Reading tipo ho letto l'Alef e il libro di sabbia e lo so stasettimana non sono riuscito a fare Catrini Calvino vediamo ah quello lì il Vangelo il Vangelo secondo Marco era una roba quello era bellissimo quello era bellissimo libro preferito di Borgas penso proprio l'Alef sai forse preferisco l'Alef a finzioni eh eh Paolo dovrei cercarlo c'è una cosa chiamata indice qualcuno scrive in chat Andre dici qualcosa di Gogol gongolo gongolo con Gogol arriverà senz'altro mai letto nulla sarò blind totale provate partite da Wikipedia se volete sapere più cose su Borgas in generale io lì ho anche i meridiani di Borgas spiegano un sacco di cose raccontano un sacco di cose su di lui è un po' un po' complicato dite Pirandello dite Pirandello ma sapete non so non so Pirandello non so vediamo bello giocate dal caso eh Diego i comunicati di Conte grazie a voi grazie a voi Bruno ma grazie a voi sì sì sono praticamente un deposito Amazon veramente ma se volete facciamo un po' di spoilerazzi abbiamo guarda facciamo un spoilerazzi Pirandello questo che non sapete chi è non lo sapevo neanche io pare che sia uno dei più grandi scrittori di racconti americani ed è John Cheever e lo leggeremo perché pare che sia un po' il maestro dei vari carver e compagnia Edgar Allan Poe i racconti sto facendo un casino di cui mi pentirò questo autore morto giovanissimo che ha scritto pochissimi racconti che sono a quanto pare rimasti davvero impressi che è questo Brice G. Pancake questo libro Trilobiti pare che sia una perla questo libro di questo autore scomparso ma molto promettente era prima di scomparire poi il libro di Asimov ve l'ho già fatto vedere lo rovino solo a muoverlo quindi lo sapete questo già lo conoscete che è il nostro Franz Kafka vi dico quello che è il serbatoio delle nostre serate fino adesso questo è Gogol questo è l'altro Bor vabbè Bor è solo tutti scusate ho preso contro questa è la nostra Alice Murrow in fuga lo leggiamo martedì il racconto che dal titolo alla raccolta questo ci tengo molto a leggervelo Richard Ford Rock Springs anche lui autore americano di cui ho letto il romanzo Incendi ha un bellissimo stile leggeremo sicuramente della roba sua e poi ho preso per la gioia di molti di voi anche mia Cortazar Tutti i fuochi il fuoco ho già letto suo Cronopio Sefamas e Rayuela ovviamente grandissimo scrittore argentino anche se il numero uno rimane Horge questo ne abbiamo già letto uno quello di Jesus Christ magari ne leggiamo un altro non mi ha fatto impazzire però è simpatico e poi abbiamo il nostro il nostro Buzzati 60 racconti non vi sto facendo vedere tutti i miei libri sono solo i libri nello scaffale dedicato alle letture viola il sistema periodico di Primo Levi un indescrivibile Lovecraft qua sto per fare un casino questa che ci è piaciuta assai Amy Hample ragioni per vivere ci torniamo sicuro e poi il nostro David Foster Wallace questo per ora è il serbatoio per le serate per qualche mese insomma direi che eh non lo so Dario vedremo direi che per un pochino siamo coperti insomma di roba ce ne abbiamo e alternandoli un po' siamo anche a posto per un po' e poi vabbè ragazzi c'è l'infinito davanti c'è veramente l'infinito però per un pochino mi concentrerei su queste cose qui no non ho mai letto grazie Trigoldino non ho mai letto Chekhov e infatti papabilissimo papabilissimo e il discorso poesia vediamo e vediamo 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 la saggistica vediamo eco eco come vi dicevo sicuramente farò una serata tema un po' un mix fra cose brevi cose simpatiche qualcosa di saggistico insomma lì posso un po' divertirmi a vedere che cosa si presta perché insomma non è un autore sempre abbordabilissimo il nostro ragazzi domani esatto bravo la rent domani alle 14 sono di nuovo qua facciamo un bel talk parliamo di quello che vi pare come vi pare se vi pare ci saranno anche un sacco di gag perché ho trovato delle cose su youtube musicali secondo me di altissimo livello se amate il Giappone domani siateci ragazzuoli grazie grazie mille bellissima serata adoro queste serate non so come come ringraziarvi vedrete che facciamo qualche bazzina in più in questo periodo un po' un po' così vi auguro una buona notte state benone e ci vediamo domani ciao